Il turismo del Veneto è l'industria più importante del Veneto, quindi siamo fortemente interessati e impegnati nello svilupparne le caratteristiche e le professionalità. È un turismo a 360 gradi e quindi siamo impegnati nei diversi fronti, dal balneare al montano, alla quale, alle terme, ma anche e soprattutto a tutta quella fascia della pede montana che ha necessità di essere valorizzata. Quest'anno è stato un anno che dal punto di vista climatico ha avuto delle problemi non indifferenti, ma siamo sicuri che l'ossatura e lo scheletro del turismo del Veneto sia in grado di reagire prontamente e di recuperare quelle percentuali che probabilmente in quest'anno hanno avuto delle defiance. Recuperare vuol dire recuperare i turisti italiani, i turisti stranieri che sono già comunque presenti e che sono già fidelizzati con le destinazioni del turismo del Veneto, ma indubbiamente è necessario sempre e costantemente lavorare per mantenere alto il livello e l'attenzione dei turisti e degli potenziali turisti nei confronti del nostro grande patrimonio che va dal naturale all'archeologico, al culturale, allo storico e all'artistico e pertanto un'espressione veramente ampia e la possibilità di intercettare tutti i turismi che ci sono nel Veneto e in Italia e a livello internazionale.